Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, attore di teatro, cantante di musica leggera e showman in genere, si è dedicato occasionalmente anche al cinema, e raramente al doppiaggio. Con più di 14 milioni di dischi, è tra gli artisti italiani che hanno venduto di più nel mondo. Durante la sua carriera ha pubblicato 31 album, di cui 23 in studio, 4 live, 4 raccolte e 36 singoli. Oltre ai familiari e agli amici, non è voluto mancare Massimo Ranieri, con cui Mazzocchi collaborava, che lo ha voluto salutare anche sul suo sito Facebook. Ciao maestrone, e amico mio dolcissimo, abbiamo passato 15 anni meravigliosi insieme, fatti di risate, cene, prove estenuanti, ma sempre col sorriso e dolcezza da parte tua, un'està intellettuale e morale, quelle parti di te che tutti noi abbiamo sempre apprezzato, amato tantissimo, e che ci mancheranno infinitamente. Grazie amico mio dolcissimo, rimarrai sempre nel mio, e nei cuori di tutti. Un addio che lascia un vuoto incolmabile nell'Olimpo, degli artisti di successo, che hanno illuminato il nome di Civitavecchia in giro per l'Italia. La scomparsa a 53 anni di Flavio Mazzocchi, straordinario pianista, talmente talentuoso da vantare collaborazioni con artisti del livello di Pino Daniele, Amedeo Minghi, Andrea Bocelli e Massimo Ranieri, ha sconvolto un'intera città. Giovedì scorso la drammatica notizia, Flavio soffriva di un male incurabile da parecchio tempo, che però ha sempre combattuto con la tempra di un guerriero, con il carattere determinato che lo contraddistingueva. Lascia moglie e due figli.